Buonasera a tutti. Allora, vado un po' a braccio, c'erano anche delle slide che avevamo preparato, però diciamo volevo fare alcune riflessioni con voi. Quindi, la prima riflessione rispetto a quello che abbiamo fino adesso ascoltato, c'è un grande tema trasversale che è molto, come dire, contemplato con il tema della remunerazione, che è tutta la dimensione della sostenibilità, che abbiamo visto, noi tocchiamo sui comitati di remunerazione nomine per quanto riguarda tendenzialmente, inizialmente i KPI che devono stare nei sistemi di incentivazione, ma in realtà lo guardiamo molto anche voi come consigliere di amministrazione sul concetto della strategia. Il tema della sostenibilità, qualcuno di voi scherzando ha detto che non è assolutamente nuovo, perché il nostro codice civile parla della diligenza del buon padre di famiglia. Insomma, non è certo come dire così bello e politicamente corretto come il concetto di sostenibilità, ma se non è sostenibilità gestire quella diligenza del buon padre di famiglia, l'azienda non so cosa sia. Però il ragionamento è quello di dire, è chiaro che ci sono alcune dimensioni strategiche, ci sono alcune dimensioni operative di modelli di strutture di funzionamento, ci sono alcuni processi, ci sono alcune responsabilità che sempre più sono un po' sovrapposte, no? Tra i vari comitati, tra il consiglio, l'azienda, cosa deve fare, qualcuna fa washing, qualcuno ci crede veramente, e poi alcuni prendono degli angoli sulla sostenibilità, quelli più semplici. Alcuni sono, come dire, la sostenibilità è embedded nel modello di business, quindi dicono non c'è niente di nuovo, è quello che noi facciamo normalmente. Quindi il nostro punto di vista è che quest'angolo vada trattato in modo strutturato, vada trattato in modo strutturato almeno su due dimensioni. Primo, avere una piattaforma comune sulle responsabilità, no? Che cosa devono fare i comitati sulla sostenibilità? Che obiettivi hanno? Che azioni devono darsi? Noi abbiamo fatto una piccola ricerca, recuperando tutti quanti gli statuti e le responsabilità e i regolamenti di funzionamento dei comitati della sostenibilità delle principali società FUTSI, e poi magari chiedo a Sara se mi mette la slide perché fa vedere un po' che cosa da quest'analisi esce fuori, no? Ci sono quattro macro dimensioni, se non ricordo male, di ambiti che i comitati per la sostenibilità devono portare avanti. Però riteniamo che c'è bisogno di fare un po' d'ordine, no? Un po' d'ordine anche logico, metodologico. Ecco, grazie Sara. Perfetto, no? Quindi, se guardate adesso qui noi l'analisi che abbiamo fatto, il 21% delle società hanno lanciato un comitato della sostenibilità DOC, quindi il 50% del listino FUTSI-MIMB. Poi ci sono un po' di sovrapposizioni, no? 13 società lo integrano nel Comitato Contro le Rischi, quindi la guardano sostenibilità per evitare, no? Come dire, problematiche. Alcune società prendono più una dimensione la sostenibilità, no? Della leadership e della governance aziendale, quindi lo affrontano nel tema del Comitato Nomine Governance. In due casi le responsabilità non risultano essere in nessun comitato, quindi non c'è il tema della sostenibilità. Quindi, come vedete, c'è un approccio abbastanza adocratico, se posso usare questo termine, no? Ognuno cerca di organizzarsi nel modo migliore. Se andiamo a vedere nella slide successiva quali sono i compiti dei comunitari in tema di sostenibilità, questo è quello che abbiamo raccolto leggendo i vostri regolamenti, no? Qui è interessante perché, insomma, ci sono parole importanti, no? Il Comitato si deve occupare di strategia. Ora, la strategia, nella mia esperienza, porta dei cambiamenti, porta degli investimenti, porta un'evoluzione dell'azienda. Si deve poi occupare, ovviamente, data una strategia, data gli obiettivi di fare reporting. C'è tutto il tema dell'ingaggio, no? Abbiamo visto come Francesco ci raccontava che uno dei temi fondamentali è proprio l'ingaggio degli stakeholder, lì si potrebbe anche dire su quanto noi e come facciamo l'ingaggio, no? La mia impressione è che noi facciamo l'ingaggio degli stakeholder sempre dopo, o tardi, o non in anticipo, no? Poi mi domando se non ci dimentichiamo che poi gli investitori, quando guardano le N.000 relazioni e report, no? Delle società quotate lavorano su delle checklist, oppure leggono la raccomandazione di ISS. Cioè, immaginiamo anche un processo molto meno sofisticato di quello che noi pensiamo, no? Quindi, probabilmente, lavorare prima sull'ingaggio di alcuni investitori chiave, anche tramite società come Georgeson, diventa essenziale. I comitati poi, abbiamo visto, hanno un obiettivo di definire degli indicatori di sostenibilità, di legare la remunerazione, e alcune società parla di avere anche un ruolo di osservatorio. Quindi, non solo è, diciamo, eterogenea come viene affrontato il tema, ma anche è molto largo da cose quasi da riempimento del tick the box, a cose più importanti, come la riflessione della strategia, è molto diverso l'ambito di azione e di attività. Allora, le nostre riflessioni sono, e qui lo vediamo, l'abbiamo provate a sintetizzare, che ve le porto, molti di voi sono anche dei comitati di sostenibilità, o alcuni di voi. Molto spesso rimunerazione di sostenibilità sono incrociati. Anche governare sostenibilità, no? Perché un elemento di sostenibilità, guarda casa, attiene proprio anche la governance dell'azienda, no? Il tema della succession, della leadership pipeline, che spesso è tema molto caro ad Enzo. Ci sono poi aspettative, no? Di varia natura da parte degli investitori e dei regolatori. C'è anche un tema di reputation, no? Interno dell'azienda, perché le aziende più sostenibili sono quelle che hanno maggiore reputation, che fanno traction, retention, dove il mercato dei talenti è più importante. Quindi tutte queste sovrapposizioni ci spingono a dire, questa è la nostra call to action, che MERS ha intenzione di strutturare un osservatorio sui comitati per la sostenibilità, quindi noi oggi formalmente lo lanciamo, ha intenzione di riflettere, partendo dall'osservazione delle prassi comuni, come questi comitati lavorano, ha intenzione di fare un po' di benchmark internazionali, perché ci sono industrie e paesi più avanti di noi, alcuni, non tutti, ma alcuni ci sono, e ha intenzione di riflettere anche su trovare un filo comune tra le n iniziative che dentro il cappello della sostenibilità poi il management fa, e portarle a rivostruire un'agenda del comitato, cioè che cosa deve fare sul mandato triennale del Consiglio di Amministrazione del Comitato della Sostenibilità? Che azioni deve muoversi? Che elementi deve andare a valutare? Quindi noi vogliamo, partendo, ripeto, da un'osservazione empirica, e quindi anche da un dibattito con alcuni di voi, montare un osservatorio del funzionamento dei comitati della sostenibilità, provare a creare un link con i progetti di cantieri di sostenibilità che le aziende stanno facendo, fare benchmarking nazionale e internazionale, e chiaramente diciamo proporci come supporto, sostegno, indirizzo e in alcuni casi anche un po' di check and balance rispetto alla responsabilità sul Comitato per la Sostenibilità. Questo è un po', se volete, il bisogno che devo dire è sempre più forte perché molto spesso veniamo anche chiamati a dare delle osservazioni ai comitati sulla sostenibilità e gli stessi comitati attinguono informazioni, devo dire, nei modi più disparati. Ci sembra che ci sia bisogno di un po' di organizzazione strutturata del percorso e quindi questa è un po' la nostra, no Enzo, la nostra call to action che con Sara e con Roberta e con gli altri colleghi abbiamo deciso di prendere e quindi ci farà piacere se la maggior parte di voi che siete anche in quei comitati possa partecipare e dare, insomma, il proprio contributo. Sì, Marco, grazie. Riteniamo che sia un'iniziativa molto importante. Ovviamente se ce li sono alcuni di voi o tutti ospicabilmente interessati anche a riflettere sulle interrelazioni che esistono fra il Comitato di remunerazione e, diciamo, il tema più ampio della sostenibilità se ce lo segnalano ovviamente sarà nostra cura poi invitarvi e comunque mantenervi aggiornati. Scusa, Enzo, volevo fare solo un altro, diciamo, un commento sull'intervento di Sara perché non c'entra con la sostenibilità ma c'entra con la remunerazione. Allora, non so se avete notato ma i fissi degli amministratori delegati in me li scendono. Quindi, l'effetto inflattivo che molte volte sento evocare non c'è. Cioè, non c'è una copertura dell'inflazione sul fisso. Adesso è vero che abbiamo un Fuzzimib che va un terzo di rinnovo ogni anno, quindi non... Mentre abbiamo una forte strumentazione di Pay for Performance dove la performance anche in funzione e l'andamento degli utili sta crescendo molto. Un'opinione che io ho e volevo metterla lì un po' come un punto di riflessione per tutti voi è che forse... Scusate, faccio un'altra riflessione. Poi invece abbiamo i investitori che ci diano attenzione a le sembranze. No, perché quello è un ever-ending point of discussion che abbiamo in Italia. No, amministratore delegato, direttore generale, dirigente, consiglieri, protezioni. Ok. Però, dando un po' un colpo al cerchio e un colpo alla botte è giusto tenere sul fisso. È giusto probabilmente essere più rigidi sull'exeverance. No, ce lo chiedono gli investitori. È giusto come dire essere il più possibile rigorosi. Ma forse su Pay for Performance ed era la domanda che stavo facendo a Sara dovremmo anche essere un po' più in modo anglosassone aggressivi. Cioè, che ci sia una cultura della remunerazione a rischio a performance più forte, no? Perché mi sembra che adesso non so se c'è una correlazione diretta ma non credo che all'incremento dell'Uglie Lordo ci sia stato in percentuale un incremento così forte a livello mediano dei bonus pagati. E allora, quindi, delle due luna o abbiamo un approccio diciamo, come dire, conservativo su tutto oppure, se vogliamo essere più conservativi sul fisso e un po' più spinti sul variabile forse il Pay for Performance che mi sembra che funzioni in Italia potrebbe essere un po' più generoso a fronte di risultati evidentemente forti ed essere un po' più rigorosi sulla parte dell'attribuzione fissa e sulla parte dei vari strumenti, no? Anche di ingaggio degli amministratori delegati dove molte volte, no? Si tende a a venire incontro a qualunque tipo, no? Di richiesta quando gli investitori ti dicono guarda che noi abbiamo un modello completamente diverso a livello anglosassone ecco questa è un po' una riflessione un po' un politically correct che mi veniva da fare e perdonatemi ma insomma non mi sembra che questo sia anche il setting giusto per farle queste riflessioni Enzo e Sartu un po' un po' un po' un po'